Cambiamo argomento, si è svolto nei giorni scorsi ad Ancona il convegno le 4A del Made in Italy nel distretto Marchigiano. Vediamo il servizio. Automazione, abbigliamento, arredamento e alimentare sono le quattro carte vincenti del saper fare tutto italiano. Quattro asset che, a ragione, fanno parte integrante del piano nazionale Industria 4.0 o varato dal governo, nell'ambito del quale sono stati messi a disposizione delle aziende 20 miliardi in tre anni per investimenti in tecnologie innovative. Di tutto questo e molto altro si è parlato nel corso del convegno le 4A del Made in Italy nel distretto Marchigiano, svoltosi nella città d'Orica e promosso da SP, PC Drives Italia, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona. Questo piano nazionale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato possibilità di investimenti anche consistenti nel mondo dell'imprenditoria, dell'industria e noi siamo pronti a mettere a disposizione la nostra professionalità. Abbiamo tanti esperti, tanti ingegneri, tanti ingegneri delle informazioni che possono dare il loro contributo e essere utilizzati dal mondo imprenditoriale nella maniera più appropriata. Ad illustrare lo stato dell'arte nelle marche e in maniera più ampia nel centro Italia ci hanno pensato le testimonianze di alcune delle maggiori aziende del territorio, tra cui BS Group, Lardini, Fileni e Scavolini. Numerose anche le partecipazioni di esperti e professionisti del settore.